Ragazzuoli, ciao a tutti! Ovviamente continuano a giungere delle novità fronte Fagioli ed è anche abbastanza inevitabile vedendo che è ciò che fa vendere i giornali in questo periodo in attesa di scoprire anche quelle che saranno le fantomatiche dichiarazioni di Corona in Rai oggi con soldi ovviamente pagati dai contribuenti una volta finita la partita dell'Italia contro l'Inghilterra anche perché giustamente nel mentre c'erano le partite della nazionale quindi sia mai mandare avanti questa soppopera non è ovviamente minimamente contemplabile e ci mancherebbe altro solo che a parte le manie di protagonismo che evidentemente vengono soprattutto concesse a Corona ci sono anche degli aggiornamenti un pochino più importanti riguardo la vicenda Fagioli che arrivano da giornali che certo da un certo punto di vista mi piacerebbe anche definire autorevoli ma nel momento in cui si parla di Gazzetta dello Sport tutto quanto viene sicuramente a meno anche se sappiamo bene che quando si parla di vari tipi di giustizia che sia quella sportiva che sia quella dell'UEFA o robe di questo genere non si sa come mai la Gazzetta dello Sport è sempre un passo avanti a tutti gli altri e fronte Gazzetta dello Sport appunto quindi poi ognuno lascia il beneficio del dubbio che ritiene opportuno io sono sincero do abbastanza credibilità a questa notizia che non sarebbe neanche poi così tanto tragica si parla di una squalifica che dovrebbe essere dai sette agli otto nove mesi al massimo per Nicolo Fagioli anche se la richiesta iniziale pare essere di un anno che rispetto a quello che ci avevano venduto nelle prime ore uscita la notizia ovvero come minimo tre anni sicuramente si può entrare a ragionare in ottica un pochino differente questo diciamocelo chiaramente questo ovviamente perché il giocatore ha patteggiato anche perché ha capito di aver sbagliato ha deciso di autodenunciarsi ha deciso anche soprattutto di ripulirsi da questo vizio legato al gioco e insomma bene o male pare che la squalifica del giocatore sarà molto banalmente tra virgolette per questa stagione qui nel momento in cui si parla di sette otto mesi starebbe a significare che avrebbe modo in pratica di iniziare a prepararsi già per la stagione 2024 2025 poi certo nel momento in cui è appurato con tanto di autodenuncia che tu certe cagate sei andato a farle ovvero scommettendo sul calcio e nel momento in cui magari viene confermata la tua ludopatia grazie a evidentemente dei medici che affermano questo per quanto sicuramente non sia una cosa felicissima evidentemente si va incontro a questo tipo di sanzioni qui e cosa c'è da dire nulla nel senso non dico che va bene così perché sono solamente sette mesi al tifoso indubbiamente oltre ad avere i maroni pieni di questioni extracampo perché diciamocelo chiaramente ormai è da un anno che il tifoso della juventus pensa solo ed esclusivamente a questioni extracampo piuttosto che quelle meramente di campo non puoi dire va bene così sicuramente tra quello che abbiamo passato da gennaio poi una volta che finisce quello attacca la pipa pogba una volta che smette pogba inizia la pipa fagioli nel senso non è che puoi dire va bene così perché tu in tutto questo nel dubbio col va bene così ti ritrovi senza fagioli e pogba per tutta la stagione quindi un va bene così non c'è e non può minimamente esistere ci mancherebbe altro per una serie di motivazioni e soprattutto a proposito io sono anche molto curioso di vedere quelle che saranno le scelte che farà la juventus non tanto magari riguardo pogba ma anche perché no non tanto magari per quanto riguarda faccio fagioli perché sin da subito si è trappelata la notizia no di una juventus comunque vicina al giocatore perché capito le difficoltà perché capito tutte le varie problematiche del caso e va bene e va bene magari anche fagioli percepirà i suoi 2000 euro invece che lo stipendio intero è ok però sono curioso di vedere quelle che saranno invece le decisioni della juventus riguardo le ennesime dichiarazioni accusatorie da parte di corona perché ieri alla zanzara fabrizio corone è stato chiamato e ha detto papale papale sono coinvolti tutti procuratori e società sapevano non potevano non sapere una dichiarazione che torna anche abbastanza famosa un pochino come era per conte quando sempre per calcio scommesse era stato squalificato perché non poteva non sapere ripercussioni sulle società io domani cioè stasera porto delle prove che la juventus sapeva tutti dai giocatori al direttore sportivo quando io pubblico la notizia il primo agosto loro non lo portano in ritiro bonucci nella chat con fagioli dice basta 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 e dimostra che la juve sapeva alt perché già con questa cosa in caso qualora fosse vera e qualora stasera davvero porterà queste prove dimostrerà che era bonucci che sapeva e bonucci non è proprio uguale juventus soprattutto poi nel momento in cui in questo preciso momento qui c'è anche una questione legale in ballo tra bonucci e la juventus quindi il fatto che magari bonucci sapesse non è neanche proprio uguale a quindi per forza di cose la juventus sapeva e poi anche bonucci sapeva va bene ma cosa sapeva magari del vizio di fagioli e per carità magari voleva aiutare a smetterli in qualche modo ok può essere un discorso ma sapeva del vizio di fagioli o sapeva del vizio di fagioli legato alle scommesse sul calcio che anche qui si aprono ovviamente degli scenari differenti perché anche il famoso comma 5 dell'articolo 24 che l'articolo più citato di questi giorni parla di denuncia che deve essere fatta nel momento in cui si è a conoscenza di scommesse legate al calcio non di scommesse punto poi ancora questa cosa di mandare avanti il discorso legato al primo agosto e che quindi poi la juventus non ha portato il giocatore in ritiro quando il 2 d'agosto di fatto il ritiro stesso era concluso nel momento in cui era iniziato a metà luglio nel senso con tutto il bene del mondo anche meno ed è qui infatti che voglio vedere quelle che saranno le vie che sceglierà di intraprendere la juventus perché dopo le prime dichiarazioni di corone è stato fatto il comunicato e va bene però se ti limiti solide esclusivamente al comunicato senza agire poi per vie legali tutto quanto è differente e se lo fai una volta magari tanto tanto se poi la stessa identica accusa tra le altre cose si va a ripetere alt perché come ho letto poi su twitter è facile magari rifinanziare nel momento in cui c'è effettivamente una necessità ed è una cosa tutto sommato anche abbastanza da lodare io sono completamente d'accordo però quando ti devi poi tutelare lo devi fare lo devi fare e tra l'altro vedremo che cosa porterà corona con tra l'altro non so se avete seguito nelle ultime ore pare che la cosa legata a zalewski si sia rimediato si sia dimostrata una puttanata e non vorrei che questo paese continui a pendere dalle labbra di uno come corona che poi magari risulta davvero che è andato a riportare a pubblicare delle cose che poi si dimostrano pure false tutto questo magari in trasmissioni lautamente pagate dai contribuenti quindi da noi tra le altre cose perché si sa bene o male anche quello che è il modus operandi e quelle che sono le manie del fabrizio corona di turno e questa cosa sicuramente non mi stupirebbe proprio per nulla se posso essere onesto e già si sta intraprendendo una linea pure abbastanza chiara bello vedere come in tutto questo tra le altre cose quando era stato intervistato su sport italia sì io sono un tifoso interista accanito però figuriamoci in queste circostanze il tifo passa in terzo quarto quinto piano nel dubbio però in tutto ciò l'unico club che ovviamente era a piena conoscenza di tutto quanto è la juventus perché il primo d'agosto non ha portato facione in ritiro con il ritiro che finiva il 2 perché anche di questo che si parla mentre invece per quanto riguarda tonali è impossibile che il milan sapesse anche se o comunque è un caso stranissimo che il milan abbia fatto mercato con una champions league non conquistata sul campo e con la cessione di tonali è impossibile che la roma non sapesse per zagnolo e no solo ed esclusivamente la juventus sapeva ma ovviamente ha nascosto tutte le altre ci mancherebbe figuriamoci figuriamoci se le altre in un qualche modo potevano sapere un qualcosa mentre invece per quanto riguarda la juventus non potevano sapere assolutamente agire per vie legali quando ci sono accuse anche abbastanza diffamatorie ovviamente vedremo e anche quelle che saranno le fantomatiche prove che corona porterà questa sera vedremo però penso sia proprio giunto il momento di iniziare a tutelarsi veramente anche proprio tramite comunicato ufficiale proprio per far sapere che così magari le persone che hanno una certa abitudine nel poter farsi un nome gettando merda sulla juventus perché le ripercussioni tanto per stare dalla parte del sicuro non ci sono mai ecco iniziamo a farle muovere queste ripercussioni comunicandolo però ufficialmente così anche tutti gli altri magari quando si sentiranno nella posizione di poter fare certe accuse anche abbastanza infamanti ci penseranno se il rischio può essere quello di ritrovarsi senza nemmeno un paio di mutande da potersi cambiare tutto qui tutto qui un mio piccolo incentivo alla juventus football club spa questo è nemmeno detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve ciao 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 Grazie a tutti